Mi chiamo Carelli Maria Luisa, ho 51 anni e vengo da Milano. Ho conosciuto il dottor Palmas e il turismo dentale, così come si dice, per caso, perché io faccio l'infermiera e un giorno, intervistando un paziente per sapere cosa aveva problemi o che altro, gli ho chiesto se i denti erano a sua e lui di rimando mi ha detto no, non sono miei, sono del dottor Palmas. Nonostante sono sempre stata molto fortunata, ho sempre trovato persone molto disponibili, non mi sono mai sentita sola, non mi sono mai sentita dimenticata, quindi è andata bene. E per poter fare questo, oltre a cambiare la protesi, ho una barra al titanio che mi permette di avere tutta l'impalcatura e quindi di essere finalmente soddisfatta, perché la mia paura era che mi trasformasse troppo, che non mi riconoscessi. Invece devo dire che mi ritrovo, mi piace, mi sento bene. La vita è cambiata, sì, perché adesso, a parte qualche piccolo accorgimento, ma finalmente non ho più limitazioni nell'alimentazione e quindi adesso mi sento molto, molto meglio. Adesso quando c'è da fare la fotografia, infatti io avevo chiesto al dottor Palmas, ho detto, io voglio diventare una fotografia che metti in studio, che vedi la mia faccia o dove vuoi tu, anche a Kislau, non mi interessa, però ho detto, io voglio diventare come le signore e i signori che hai in studio con tutto questo sorriso e ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.